Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, ore di paura per il noto personaggio Mediaset, la nota Showgirl è stata operata in ospedale, in questo video svegliamo quali sono le ultime notizie dalla recente operazione, prima di saperne di più vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 400 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo in questo video, vi aggiorno su ciò che sta accadendo a Samantha de Grenet, che è tornata sotto i ferri, questa volta per un intervento al menisco, la nota Showgirl tuttavia non si è lasciata battere, anzi ha affrontato l'operazione con tanto buon umore, supportata dalla cara amica Eleonore Casalegno, anche dal letto d'ospedale, Samantha de Grenet ha saputo strappare un sorriso ai suoi tanti follower dopo l'operazione, anziché piangersi addosso, facendo divertire e sorridere tutti, ha chiesto se poteva avere una focaccina, quindi un modo di sdrammatizzare, di focalizzarsi sulle cose positive, auguriamo il meglio a Samantha de Grenet, le auguriamo una pronta ripresa, ricordiamo che la nota Showgirl si è sottoposta ad un delicato intervento al menisco e il primo anno di Marco Liguori nei prossimi giorni vi aggiornerà su questa vicenda. Amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sul secondo mani di Marco Liguori, il canale dei video di cronaca, seguitemi anche sul nuovo canale Marco Liguori, psicologia e crescita personale, ciao a tutti.